Il re, il re della casa. Guardate, a differenza di dieci mesi, capelli, barba, proprio completamente diverso, sembro dieci anni più vecchio, un anno di Juventus come questo mi ha fatto invecchiare in una maniera incredibile, e chi è quello sopra, non lo so. Chiedo, voi a inizio anno avete fatto la vostra classifica finale della Serie A? Se sì, tiratevela fuori e confrontatele insieme a me. Se non l'avete fatta, limitatevi a prendere per il culo le mie prediction che saranno sicuramente sbagliate. Retrocessione. Vi dico subito le tre che secondo me andranno in Serie B. Sono Lecce, Salernitana e Cremonese. Lecce, Salernitana e Cremonese. Queste erano le mie tre retrocessioni. Ero convintissimo che potesse andare giù la Salernitana, ma proprio convintissimo. Invece si è salvata con 42 punti. Ero convintissimo che potesse andare giù anche il Lecce. Si è salvato con 36, anche se è stato lì lì per andare giù. Si è salvato il Verona in extremis. Non ho beccato le Liguri, diciamo così, perché appunto retrocessa lo Spezia insieme alla Sampdoria. E quindi una su tre sulla retrocessione. Le che abbiamo appena visto sono squadre che faranno circa una trentina di punti, visto che anche... Circa una trentina di punti. Minchia. La Sampdoria ha fatto 19, la Cremonese 27, lo Spezia 31. L'anno scorso la media salvezza sembra essersi abbassata notevolmente. Una volta erano sui 40, adesso con 40 dovresti... Adesso ti salvi con 31. Cioè il Verona si è salvato con 31. Devi essere salvo tranquillamente. E quindi il prossimo blocco sono le squadre che lottano per la salvezza. Quelle che potrebbero essere rischiate. Quindi squadre che dovranno stare attente. Quattro perfette. Allora. La Sampdoria, lo Spezia, il Monza e l'Empoli. Sampdoria, Spezia, Monza e Empoli. Minchia, che fiducia nel Verona che avevo. Allora, Sampdoria e Spezia sono le due retrocesse. L'Empoli poteva essere risucchiata nel vortice e il Monza invece ha fatto un campionato allucinante. Il Monza ha fatto un mercato che per una neopromossa in Serie A è roba da sogno, veramente. Si vede l'esperienza di Galliani e la proprietà di Berlusconi che in tanti anni hanno fatto bene al Milan. E allora il Monza sta vivendo un sogno perché ha comprato davvero dei calciatori di assoluto livello. Però credo che queste quattro squadre possano essere quelle più interessate alla lotta per non retrocedere. È vero che il Monza ha fatto un ottimo mercato ma questo non sarà sufficiente. Sarà necessario cercare di capire se è una squadra pronta e attrezzata per cercare di salvarsi. E infatti non era sufficiente perché fino all'arrivo di Palladino il Monza non sembrava neanche una squadra. Diciamo che Palladino è stato essenziale per rendere il Monza quello che poi è stato quest'anno. Infatti secondo me sarà quattordicesimo Empoli, quindicesimo. Quattordicesimo Empoli. L'ho beccato! L'ho beccato! Quattordicesimo Monza. Non l'ho beccato. Sedicesimo a Sampe, diciassettesimo Spezia. Ho beccato l'Empoli! Quattordicesimo! Forza Empoli! Grande Empoli! La mia squadra del cuore di sempre. Da quando ho vinto la Champions League con Giovinco, Gilardino e Messi in attacco quando avevo tipo sedici anni, quindici. Sì, le ho chiamate in lotta però le avevo dato un po' troppo fiducia. La Sampe ha proprio fatto il disastro. Lo Spezia e il lotta ci poteva stare, ha perso il playoff, il playout. Però non avevo assolutamente beccato il Verona. Quindi Verona e Monza sono le due che ho invertito. Queste sono squadre che faranno intorno ai 30-40 punti. Quello della metà classifica. Quindi squadre che faranno tra i 40 e i 50 punti giù di lì. Cinque squadre che faranno tra i 40 e i 50 punti. Ah, dai, meno male ci sono. Allora Sassuolo-Bologna, ecco. Qua viene fuori l'Ellas che invece non avevo assolutamente beccato. Però il Sassuolo, il Torino, il Bologna e l'Udinese, sì, le avevo messe in questa... Sono squadre che probabilmente non rischieranno la retrocessione. È vero, non è andata bene invece. Non succeda qualcosa di incredibile per dire. L'Ellas-Verona e l'Udinese forse sono quelle che rischiano un po' di più di aggrapparsi al treno più basso. Quindi essere sottili per la lotta alla salvezza. Quindi nono Torino. Nono Torino. No, ho messo il Bologna. Decimo Sassuolo. No, ho messo il Torino. Undicesimo Bologna. Dodicesimo Udinese. Dodicesimo Udinese l'ho beccata. Empoli Udinese. Beccate nelle posizioni... Trecisimo Verona che... Non proprio. Ha cambiato tanto. Queste due ultime due squadre hanno cambiato tanto. Secondo me non avranno problemi a salvarsi, però il rischio di essere risucchiati verso il basso c'è sempre. Perché le altre comunque le davo all'interno della lotta. Verona e Monza sono le uniche due fino adesso che ho cannato completamente. E direi di passare invece a tre squadre che secondo me lotteranno sull'ordine dei 60 punti per cercare di giudicarsi l'accesso alle coppe europee. Sull'ordine dei 60 punti. Allora, qua c'è da considerare ovviamente i 10 punti della Juve perché la Juve ne avrebbe fatti 72 al pari dell'Inter. Ok? Qua invece proprio le ho gli olio, le ho cannate completamente. Allora, qua tre squadre sull'ordine dei 60 punti. Quindi con i 10 alla Juve queste squadre nella realtà sono Fiorentina 56, Roma 63, Atalanta 64. Atalanta, Fiorentina e Lazio. Ho invertito la Roma con la Lazio. Secondo me la Lazio arriverà a sesta. Eh, no. Cioè, no. Eh, come ho fatto a non prevedere i meno 10 alla Juve? Scemo io, scemo io. Sarri mi sembra l'allenatore più indicato per questi livelli. Ha già vinto anche in Europa. Ha fatto decisamente di più. Ha fatto decisamente di più. Ha fatto decisamente di più. Al settimo posto la Fiorentina 8. Settimo posto Fiorentina, no. È arrivata ottava. Mancata mia posizione. Ho posto l'Atalanta, ma la... Ottavo posto l'Atalanta, no, perché è arrivata sesta con lo scalo. Cazzo, ci sono andato vicino con l'Atalanta e la Fiorentina. Perché ora rimane lo scudetto e la zona Champions. Però, ok, c'è un problema. Ci sono cinque squadre. E sono Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma. Ora, qua c'è da fare un bel discorso. Un bel discorso fatto bene. E per farlo, credo che sia necessario ragionare su quello che è stato il mercato. Partirei dal Napoli. Perché io ve lo dico, qua faccio la più grande gufatta nella storia del calcio. In assoluto... Oh, non era mica facile dire una cosa così e farla realizzare, eh. Io vi preparo. Ha comprato un giocatore con un nome impronunciabile. Oh, questo fa già ridere. La sceila. Non l'avrò mai nominato bene. Ma dai! E questo è diventato Maradona. Ma non è questa la gufatta. Ma non è questa. Un giocatore con un nome impronunciabile. E' tipo Maradona reincarnato, va bene. Sta trattando Raspadori. Sta trattando Keylor Navas con il PSG. Quindi una squadra ancora ad oggi incompleta. Il Napoli. E' vero, perché qua non aveva ancora completato il mercato, il Napoli. Diverse partenze pesanti, come Coulibaly, Insigne, Mertens. E potrebbe raggiungersene anche altre, perché da quanto leggo Fabio Arruista è sempre un giocatore che potrebbe lasciare la città, il capoluogo campano. Ha un allenatore, Spalletti, specializzato nel riuscire a portare le squadre almeno in posizionamento Champions, con qualche problema in più a portarle al livello successivo, lo dice la sua storia. Però un allenatore sicuramente capace, ma con una squadra completamente diversa in mano. Devo dire la verità, io l'anno scorso sono stato sorpreso dal Napoli perché non aveva fatto mercato nella stagione precedente. Aveva dato praticamente la stessa squadra di Gattuso in mano a Spalletti. E Spalletti è stato molto bravo perché ha dato anima e gioco al Napoli. E per lunghi tratti del campionato si pensava potesse addirittura essere l'anno dello scudetto dopo tanti anni di astinenza. Lo lascerei un pelo più indietro, passerei alla Roma, che con Wijnaldum, Dybala e Matic e praticamente la sola cessione di Oliveira in mezzo al campo, ha fatto un calcio mercato che probabilmente è quello più positivo in Serie A per la qualità che ha aggiunto e per il poco che ha ceduto. Aggiungiamo inoltre che Mourinho è uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, degli ultimi dell'ultima decade e che l'anno scorso è riuscito a riportare un trofeo addirittura europeo nella città di Roma in una squadra che non alzava un trofeo da troppi anni. Quindi sicuramente il progetto Mourinho è partito con il piede giusto, il mercato di quest'anno è un grandissimo mercato e vedo una Roma veramente attrezzata per poter inseguire perlomeno il posizionamento Champions. C'è un problema, come dicevamo prima, 4 vanno in Champions e queste squadre sono 5. Dunque, allora parliamo di percentuali Scudetto. Per farlo però voglio tirar fuori una statistica, un'altra statistica, che non sono mai la certezza nel calcio, assolutamente non è questo, però tanto ci raccontano, e cioè che negli ultimi 20 anni le squadre che hanno vinto lo Scudetto in Italia sono state a rotazione, Juventus, Milan o Inter. E già questo secondo me di per sé taglia un po' le gambe a Roma e Napoli, che non significa che non potranno vincere lo Scudetto, ma credo che siano squadre attrezzate per posizionarsi al massimo in Champions League. Era 20 anni, 20 anni che lo vincono la Juve, il Milan o l'Inter. Decido di dirlo io, la vince il Napoli. Ho 20 anni, cioè non 25 minuti, 20 anni. Decido di tirar fuori sta statistica, tac, vince il Napoli. Può succedere l'anno che ti ritrovi lì, fino all'ultimo a lottare. A prossimo anno me la risparmio per forza, non posso più dirla. Dico personalmente a maggior ragione con un allenatore come Murigno, in panchina, che l'odore del sangue lo senti, il rumore dei nemici anche, quindi può assolutamente accadere, però non credo che la Roma o il Napoli siano due delle principali antagoniste Scudetto. Eh no, ha distrutto il campionato il Napoli, disintegrato la Serie A, uno schiaccia sassi, ormai vanno anche insieme ai Champions, però no, tranquillo Luca, non ti preoccupare. Più indietro, e voglio parlare di percentuali Scudetto e Champions League, ovviamente sono squadre che faranno dai 60 punti ai 100, dato che... da 60 punti ai 100, dai 72,90. Dai 72,90. Il record è di 102, quello di Antonio Conte con la Juventus. Credo che il Napoli abbia il 5% di possibilità di vincere lo Scudetto. Eccolo, il 5%, beccato, beccato, proprio sì, 5%, sì, 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 5%, già. E che la Roma ne abbia leggermente di più, e cioè il 6%. Ecco, beh, vedi, la Roma c'aveva il 6, quindi coglioni loro che non hanno vinto lo Scudetto, l'ha vinto il Napoli con 5, eh, giustamente. Sarei stupito di vedere Roma o Napoli campioni, però... riconoscere a loro anche una percentuale Scudetto abbastanza corposa. Oh, almeno non gli ho dato lo 0%, eh. Eh, almeno gli ho dato il 5. Perché mi sembrano le squadre più avanti rispetto anche a Lazio, Fiorentina, Atalanta, che per quanto mi riguarda tutte le altre squadre, quindi Lazio, Fiorentina, Atalanta, Torino, Sassuolo, bla bla bla, hanno l'1% di possibilità di vincere lo Scudetto. Poi la Lazio ho 64 punti, però. La escludo categoricamente perché la Juventus ci darò il 5% di possibilità di vincere lo Scudetto ad agosto. Sì, campo da calcio, quante variabili, è veramente una roba infinita. Però ci rendiamo conto di quanto cazzo è vero sta roba. Cioè, tu puoi fare tutte le prediction che ti pare, poi alla fine il pallone è rotondo. Campo da calcio è quello lì, le partite si dici da lì. Quanto cazzo è bello! Quanto cazzo è bello! Perché non puoi capire niente, non puoi gestirti niente. Non ce la puoi fare. Te lo devi prendere così, ti devi guardare le partite. Anche il fatto che è il Juno, che chi è, è forte. Arriva ed è forte. Perché sono stati bravi a monitorarlo. Queste cose sono meravigliose, secondo me, meravigliose. Però vedo veramente poco probabile. Quindi Roma, Napoli e il resto della Serie A, tolte Juve, Milan e Inter, secondo me si portano a casa un 12% complessivo di... Beh, 12%, 12% non è male, possibilità di vincere lo scudetto. E vedo il Napoli forse con qualcosina in meno rispetto alle altre quattro e quindi posizionato in zona Europa League. Però quanto cavolo è bello che poi... Bisogna vedere se è costante Gvara, però è meraviglioso sapere che un giocatore arrivato da un campionato che non si filava nessuno, mai sentito nominare il calciatore, arrivi e si dimostri così forte e così determinante all'interno di un campionato comunque importante come la Serie A. Cioè questo ti dà veramente l'idea che le gerarchie, in questo momento di incertezza, si possono ribaltare in qualsiasi momento. Ecco, la Roma mi ha deluso invece da questo punto di vista. La Roma mi ha deluso. Perché secondo me la Roma era una di quelle squadre che poteva assolutamente pigliarsi la Champions, anche considerato comunque l'expload del Napoli, perché il Milan quest'anno è stata, secondo me, la squadra più deludente in assoluto. La squadra più deludente in assoluto. E quindi la Roma, secondo me, quella posizione lì poteva prendersela. La Roma ha sbagliato probabilmente delle partite... No, il problema più grande per me è il Milan, non la Roma, il Milan. Ora ci sono le tre sorelle e cercherei di ragionare partendo dai campioni d'Italia, perché è vero che hanno ceduto Chessy e Castillejo, però... Castillejo, ma non me lo ricordavo mai, mi sono passati 200 anni. Però hanno aggiunto la rosa, De Ketteler, Orighi, Adli e Pobega. Eh, che supercolpi, eh? Soprattutto De Ketteler, ok? Che poi io qua, adesso lo dico, siccome De Ketteler non è così scarso. Io ve lo dico, secondo me non è così scarso. Poi non significa che sarà un fenomeno, però secondo me non è nemmeno quel meme vivente che è diventato adesso, non se lo merita. Lo diventa per quello che è stato pagato e per quello che ha mostrato, ma secondo me almeno un giocatore normale lo può essere. Il Milan l'anno scorso ha vinto, ha vinto con merito, ha vinto probabilmente avendo neanche la rosa più forte d'Italia, probabilmente era la seconda o la terza rosa italiana sulla carta, però ha vinto. E tra l'altro, adesso io qua ripeterò una cosa che dà sempre un mio mantra, la favorita in ogni campionato è la squadra campione d'Italia. Quindi, ve lo dico già adesso, per me la favorita anche l'anno prossimo sarà il Napoli, perché per me chi vince parte sempre un passo avanti a quegli altri. Poi ovvio che il Napoli magari andrà a smantellare la squadra e quindi dovrà ricostruirla. E ha giunto al motore Lukaku, Aslani, Belanova, Mkhitaryan e Onana. E a Cerbi che ancora qua non c'era, ed è stato credo uno dei giocatori migliori della stagione dell'Inter. Non è arrivato Di Bala, certo, è andato alla Roma di Mourinho, però credo che il mercato dell'Inter sia stato di assoluta qualità. È stato un buon mercato quello dell'Inter, soprattutto con poche risorse in realtà. È stato un buonissimo mercato. Ha speso tanto sugli ingaggi, ma non sui cartellini. È che ora l'Inter possa veramente ritrovarsi con un attacco da Scudetto. Ma per un'ovvia ragione. Lo Scudetto con l'attacco l'ha già vinto. Quindi bene o male l'Inter è tornata forte, fortissima, con un centrocampo fortissimo, con degli esterni decisamente forti. Bisognerà vedere Gossens come ritornerà. Di Marco gli ha dato 10-0. Ad essere un titolare, una difesa fortissima. In porta c'è già l'erede di Andanovic. Vedremo chi giocherà titolare. Inzaghi ha detto che giocherà Andanovic. Infatti ha iniziato Andanovic e poi Onana si è preso la sua parte. Non ne sono convinto. Quindi l'Inter ha tutte le carte in regola per vincere il campionato. In Serie A è stata una delusione incredibile secondo me l'Inter. Incredibile l'Inter. Poi ha vinto due coppe, ha fatto finale ai Champions. Ma in campionato ha avuto degli alti e bassi francamente incomprensibili. Tutte, assolutamente tutte. Ma ce l'aveva anche l'anno scorso e ci è andata vicino a così. Se non fosse stato Perradu magari lo vinceva davvero l'Inter. Che ovviamente non significa che l'ha perso Perradu. Però quell'episodio sul finale del campionato è stato determinante. Vedete, una delle tante variabili all'interno del campo. Quella. E infatti l'Inter si è coperta. Quella posizione. Un altro portiere che può essere virtualmente un titolare e poi magari sarà un titolare. E adesso Bo ci dà 40-50 milioni sulla cessione. Direi che mica male. Hanno una loro identità. Queste due squadre l'anno scorso sapevi perfettamente cosa facevano in campo, quali erano i punti forti e quali erano i punti deboli. E l'Inter l'ha confermata al Milan no. Lo sapevi. Tutte le volte che guardavi una loro partita, io l'anno scorso di Milan e Inter ne ho viste tantissime, sapevi esattamente che cosa stavano per fare in campo. Lo sapevi. Differente la Juve. La Juve l'anno scorso io sapevo soltanto quali erano i punti deboli, perché di punti forti ne ho visti sempre pochi. E quest'anno, questa cosa la confermo, però secondo me quest'anno abbiamo visto dei momenti in cui dei punti forti li avevi visti. Cioè, alcune cose sapevi che la Juve le faceva. Anche solo banalmente, c'aveva un punto forte la Juve quest'anno, cioè andare sulla sinistra e crossare. L'anno scorso non c'era neanche quello. Il centrocampo a tre che aveva trovato una sua stabilità. I tre difensori che avevano iniziato a giocare bene tra di loro. Poi davanti era un po' più complicato, però qualcosina in più rispetto all'anno prima la Juve l'ha aggiunto. Poi, se devo dirvi che ci vogliano due stagioni per arrivare al punto in cui è arrivata la Juve, beh, vi dico che è francamente inaccettabile. E tante volte ci siamo ritrovati qua nei post partita a dire abbiamo vinto sì ma come? Non l'abbiamo capito nemmeno noi. Non ce l'avevamo un'identità, non sapevamo cosa dovevano fare una volta recuperata palla o quando stavamo gestendo il pallone. Tante volte ci siamo salvati e poi salvati mi sembra anche eccessivo perché alla fine abbiamo portato a casa zero trofei, abbiamo perso due finali con l'Inter, siamo arrivati al quarto posto. Questa è un'addirittura peggio invece da questo punto di vista, caro Luca. E chissà quello dell'anno prossimo che cosa dovrà dire. Ci siamo salvati magari per un rimpallo, un autogol, un'azione, un rigore, un rigore parato da Scesni e tutte queste cose. Uguale. Ancora una volta è Scesni che ti ha salvato il sederino inutile. Cosa è qua? Cioè banalmente mi viene in mente la partita di Roma dove facciamo una rimonta tre a quattro. Te la ricordi, Eravu. Te la ricordi. Noi in questo momento sappiamo come sia potuto accadere. Sono stati tutti episodi che per l'amor di Dio nel calcio ci stanno ma non può essere solo quello. E allora qua interviene l'allenatore, interviene Massimiliano Allegri. E perché io continuo a dirvi che Massimiliano Allegri quest'anno avrà una responsabilità grossa? Spoiler. No. Perché l'anno scorso è mancata clamorosamente per quanto mi riguarda la mano di Allegri. La gestione dei cambi, la lettura della partita, l'anno scorso queste cose io in Allegri non le ho viste. Neanche quest'anno, giù. Non ho mai visto dare un'impronta alla squadra. Semplicemente la squadra andava in campo, faceva il suo, faceva magari poco possesso a palle, pure sterile, e quando capitava un piazzato, un'occasione, si buttava dentro il pallone. Ma poi questo si è tradotto in una stagione terrificante per la Juventus. Non so come dirtelo Luca del 2022. Si è confermato Massimiliano Allegri, si è deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri, si dà ancora fiducia a Massimiliano Allegri e va benissimo, però adesso serve ripagare questa fiducia. È incredibile come questo stesso discorso vada bene anche quest'anno, identico, però quest'anno non si parla più di fiducia, ma si parla di vincolo, di obbligo contrattuale per una ragione economica. È lo stesso identico discorso, ma quest'anno con un punto di vista differente. Che è peggio, che è peggiore di quello dell'anno scorso. La Juventus ha aggiuntosi Bremer, ha aggiuntosi Pogba, ha aggiuntosi Di Maria, ha aggiuntosi Kostic, è tornato Fagioli, è arrivato Gatti, tutti nomi di qualità o giovani interessanti o comunque abili mestieranti, ottime riserve, come nel caso magari di Kostic. Invece il cazzo, cioè Kostic, che l'anno scorso io mi aspettavo backup di Chiesa, perché qua mi immaginavo di giocare 4-3-3, mi immaginavo Kostic gioca i primi mesi, torna a Chiesa, gioca a Chiesa. Kostic, abile mestierante, riserva, affidabile, titolare, inamovibile, anche per la prossima stagione. Cioè, vedete quanto cambiano poi le valutazioni e robe del genere. Eh, ma Kostic te lo immaginavi riserva, non pensai a giocare 4-3-5-2, pensai a giocare 4-3-3. Però la Juventus ha perso De Litt, Chiellini, Dybala, Morata, Bernardeschi. De Litt è il giocatore che ha giocato più minuti nella Juventus, Dybala era il capocannoniere, Morata era l'uomo di Allegri, veramente l'uomo di Allegri, che giocava sempre quando era a disposizione. Bernardeschi è un altro di quelli che, ragazzi, Bernardeschi ne ha giocati di minuti, ne ha giocati di partite. Chiellini era il capitano. Quindi anche la Juve aveva fatto un cambio importante come il Napoli, però quello del Napoli ha pagato, quello della Juve no. Infatti il discorso non è mai cambiare o non cambiare. Cioè non è che la strada giusta è cambiare o la strada giusta è confermare. Cioè non funziona così. Dipende come cambi. Juve, Milan e Inter. Ecco, questo è un discorso molto interessante, secondo me, da fare adesso. Perché, ecco, io non sono d'accordo. Secondo me il mercato l'anno scorso da Juve è stato un buonissimo mercato. È quello prima ancora, quello di quando era il ritorno Allegri, che è un mercato vergognoso. Invece l'ultimo che abbiamo fatto estivo è stato un buon mercato. Per quanto mi riguarda, la Juve e l'Inter hanno ancora le rose migliori del campionato. La Juve ha smontato e rimontato una squadra. Non so dirvi se è più forte o più scarse l'anno scorso. Non abbiamo visto ancora nemmeno un minuto di partite ufficiali. Secondo me è più forte perché anche l'idea di avere uno come Kostic, che te lo immaginavi, riserva. D'accordo, invece è arrivato ed è stato un giocatore importante. Bremer, per come è arrivato, ha dimostrato che subito. Peccato per Pogba che non si sia visto, ma Di Maria, anche se non aveva dato subito quella continuità, ti faceva vedere che da un momento all'altro le giocate te le poteva fare. Secondo me la Juve dell'anno scorso era decisamente più forte di quella del primo anno della Ligribis. Anche il fatto che torni dentro uno come Fagioli si dimostra subito pronto. Cioè Milik che non mi aspettavo forte, e invece guarda come è stato determinante nella prima parte di stagione, prima un po' dell'infortunio, prima del calo da parte di tutti. Secondo me la Juve dell'anno scorso, Gatti stesso che non mi aspettavo già pronto per essere un titolare, secondo me la Juve dell'anno scorso era decisamente più forte di quella prima, e la Juve dell'anno scorso insieme all'Inter erano due squadre più forti. Poi hanno vinto il Napoli, e poi aveva vinto il Milan l'anno prima, ma la Juve e l'Inter secondo me hanno sempre avuto le squadre più forti, sia di Napoli che di Mila. Il blocco difensivo, il reparto difensivo della Juventus, non mi fa dormire, sono niente tranquilli. Però se valuto le rose nel complesso, la Juve e l'Inter sono un passo avanti rispetto a tutte le altre in Serie A. Questa è una delle poche cose che anche a distanza di 11 mesi, anche come è andata la stagione, vi confermo. Cioè, ne ero assolutamente convinto all'epoca, ne sono assolutamente convinto adesso, perché la Juve e l'Inter sono le due squadre che hanno le rose migliori in Serie A, al di là del fatto che gli ultimi due squadre tenebbero vinto il Milan e Napoli. Questa è un'altra storia. Significa che hanno reso di più e reso meglio. Però le rose più forti, secondo me, ce l'hanno Juve e l'Inter anche in questo istante, anche al 3 luglio 2023. Inter e Milan hanno un'identità, cosa che in questo momento la Juve non ha, e che non ha avuto tutto l'anno scorso, e poi magari adesso ce l'ha, ma la scopriremo ovviamente scendendo in campo. È sempre il campo che ce lo dirà, ma fino ad oggi possiamo dire che l'anno scorso non c'è stata, e Milan e Inter invece l'hanno avuta. E quindi già questo forse ti mette la Juve un pelo indietro. Però la Juve ha fatto un gran mercato di qualità, e deve ancora concludersi, e arriverà ancora qualcos'altro. Forse l'Inter ha perso qualcosina anche a livello di fiducia per quello che è stato lo scudetto perso l'anno scorso, ma qua dovrà essere bravo anche qui, come nel caso Allegri, Simone Inzaghi. E Simone Inzaghi è uno degli allenatori che mi sta più antipatico in Serie A, però gli va riconosciuto il fatto che l'Inter è stata la squadra più coerente negli ultimi anni, perché ha lavorato bene nella società, e perché purtroppo ha lavorato bene anche Inzaghi. Ripeto, è uno di quelli che mi sta meno simpatici, però credo che il lavoro di Inzaghi sia stato evidente, anche se quest'anno ha fatto una bruttissima stagione in Serie A, però stiamo parlando di una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due Coppa Italia e due Supercoppe, è arrivata seconda per un punto l'ultima giornata, quest'anno è arrivata terza in Serie A certo, però ha fatto una finale di Champions League. La Juve e l'Inter le vorrei mettere un gradino più basse rispetto al Milan per un solo motivo. Per me chi vince lo Scudetto è sempre il favorito. Io sono sempre di questa idea, che non significa poi che lo vincerà, però è una mia regola non scritta. Per me chi vince è quello che deve guardarsi le spalle. Quindi anche per quest'anno, poi ripeto, bisognerà vedere come cambierà il Napoli, perché ovvio che se mi vengono si me in Kim, che va a rascheia, vi dico, vabbè, sì, d'accordo, sono i campioni, però figa. Il Milan qua aveva ceduto poco, aveva comprato tanto, secondo me ci sono state delle responsabilità di Pioli, delle responsabilità della società e delle responsabilità dei giocatori. Il Milan è stato davvero la squadra che mi ha deluso di più ai piani alti, in assoluto. Nonostante non sia così convinto che il Milan sia la squadra più forte, ma non lo era nemmeno l'anno scorso, tornare a vincere e confermarsi a un'altra è sempre più complicato. Tutti possono vincere, magari possono beccare l'anno buono, ma riconfermarsi è sempre più difficile. Abbiamo visto con l'Inter, l'Inter ha vinto uno scudetto e poi si è fermata dopo dieci anni che non lo vinceva. Però, è quello che dicevo adesso, l'Inter è stata quella che ha dato più continuità dopo il livello di competizioni. Siamo ad un livello in cui sono tutte qua le squadre in Serie A, quelle che puntano a vincere, tutte bene o male qua. Quindi può capitare da un momento all'altro che arrivi quel doppio colpo che cambia le gerarchie. metterei Juve-Inter al 29% e Milano al 30%, perché comunque queste squadre qualcosa ce l'hanno tutte per provare a vincere lo scudetto. Io mi immagino veramente un campionato combattuto a tre, dove poi tutte possono vincerlo. Invece è stato un campionato dominato da una che non mi aspettavo e poi c'è stata una corsa a tre dietro, quattro, a quattro dietro, che sono Lazio-Inter-Milano-Juve. Quindi le tre che mi aspettavo per lo scudetto invece hanno fatto la corsa tra di loro per i posti Champions. Secondo posto vi metto il Milan. Al secondo posto e al terzo posto Juventus e Inter, bene o male, a pari punti. Beh, Juve-Inter a pari punti l'avevo beccata, però al secondo posto invece sono levate terze e quarte. Eccolo. diceva Napoli primo, Inter seconda, Roma terza, Juve quarta, Milan quinto. Allora, lui ha sbagliato praticamente la Roma e la Lazio e Juve-Inter, e Napoli primo. E c'erano, aveva beccato la Sampdoria, lo Spezia e il Lecce-Mecceca e la Cremonese. Cazzo, ne aveva beccate due su tre della retrocessione e ha beccato lo Scudetto. E ha beccato, e ha beccato il Milan delusione. E lui dice, classifica prontissima fatta tre giorni fa. E uno gli ha scritto, ma chi l'ha fatta sta classifica? Bocelli? Tu non hai una minima idea. Ritorna qui a fine del campionato, non adesso. Che esagerazione. Napoli non arriva neanche in Europa League. Il Milan quinto muo me lo segno. Robbe allucinanti. Robbe allucinanti. E invece poi, segnatelo nel Cile e ci vediamo alla fine del campionato. Che nade L364 come cacchio hai fatto. La labeling o è un'夕enata. La この superficie n